Bella a tutti ragazzi, qui è Prism e benvenuti in questo nuovo episodio di Mass Effect Andromeda 527 metri, qua c'è un campo, non so se posso andare Cacchio, radiazioni Ma possiamo lo stesso Radiazioni pericolo 1 Ah, è pericolo a livello 1, supporto vitale ce l'abbiamo tutto, quindi non sembrerebbe essere un vero problema Schiaviamo un po' tutte le rocce e porca vacca, però Anche se è molto figo e da guidare è veramente difficile, perché Mantieni per usare il turbo, vai di turbo, vai pure di turbo Condizioni sicura, perfetto, perfetto, ok Usciamo dal Nomad Allora, dispositivo alieno, interfacciamoci Funziona, ma ottengono soltanto dei simboli Se avessi altri glifi da aggiungere al mio database compilato su habitat7 potrei interfacciarmi Ok, praticamente è interfacciato in base alla lingua dei cat, degli alieni Posso fornirti un'analisi, ok Dobbiamo cercare un glifo da scansionare Dobbiamo salire qua sopra E per salire là sopra Vabbè abbiamo il jetpack, non dovrebbe essere per niente un problema Che tra l'altro questa cosa del jetpack mi piace anche perché è stile halo Possiamo dire che è un po' stile halo perché Mass Effect prima di questo episodio non aveva i jetpack Che era tutto molto nature Ah, ci sono queste torrette Si scivola parecchio C'è una vista fenomenale Qua in teoria devo Appunto, eccolo qua il nostro glifo, lo esaminiamo Glifo ignoto È improbabile che questo glifo faccia parte di un codice di una lingua di origine aliena Ma se noi andiamo qua Ok, niente, siamo scesi Vabbè, per sbaglio Perfetto, dispositivo alieno, interfaccia Ti ho detto che abbiamo un glifo in teoria Noi possiamo decodificare dall'oltre tutto il resto I apologize for any discomfort The system seems unstable Is this what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor That proved extremely hazardous These structures could reveal its control center System remains unstable Doubling our power input might accelerate the process I'll give it a shot Wait! Wow, easy You've come this far Just let it ride I've been studying this tech for months I don't know how you activated those glif But you have to let them cycle through their channels Ma si, no, ho sbagliato Dovevo spingerla via, non ho visto E questo qua, secondo me, compromette un po' la cosa Nel senso naturale svolgimento Ok, credi, qua è molto spavaldo E tu? Io vorrei capire chi sei Hai la faccia da bambina Però un alieno molto bello Oh 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 crap Diretta lei che con un colpo Ha ammazzato un alieno E invece noi Allora Dobbiamo sconfiggere i robot ostile Come secondo fucile cos'è? Che ci si è messi la pistola Perché era una Era la più forte Tra l'altro Tra le pistole È solamente che Fa un po' schifo Quali robot mancano? Quello là Che si mimetizza No, sei proprio incastrato È diverso Sei incastrato Un bel buco nero E vedi che va tutto via Perfetto Dobbiamo attivare i monoliti Io sono curioso Voglio sapere cosa sono Questi Relictum Ryder You've been studying this Remnant technology What have you learned? Plenty Not nearly enough It's old It uses glyphs And it's well protected I saw this tech clear the skies On Habitat 7 We're hoping you could do the same for Eos Huh Atmosphere manipulation? Maybe Fits the model All remnant tech is connected You interfaced with this monolith somehow And now it's pinging the others If you wake them up too They must lead to whatever master switch Might fix the radiation Allora, molto comodo Per te Sembra piuttosto semplice Molto comodo You're sure it'll help Eos Or might just a handy way to get those monoliths online I'm a little offended by that Ryder Uh-huh Okay, maybe But we both get what we want Just try It's not like we can make this planet worse Here Take my nav points I'll be I've got to figure this interfacing out Just be careful This planet is all kinds of strange Allora, dobbiamo attivare i monolithi Quindi praticamente Sì E niente Da quello che penso di aver capito E anche dedotto Noi abbiamo una nuova alleata Che si chiamerà Pebe E come avevamo anche Presupposto prima Questa torre Questa struttura È la stessa che abbiamo trovato Anzi, almeno simile A quella che abbiamo trovato in Habitat 7 E la sua funzione principale Qual è? È quella di variare le condizioni atmosferiche Questo è un problema Perché se appunto le varia Rendere la nostra permanenza Abbastanza difficile E questo Fa in modo che non sia Neanche un Un pianeta abitabile Quindi non possa essere Un sostituto Sostituto ideale Per la Terra Allora Allora Noi Dove cacchio Dobbiamo andare? Dobbiamo Eeeh Lontanissimi Dobbiamo attivare i monolithi Elimina la radiazione atmosferica Andiamo appunto A decifrare questi monolithi Prendiamo la nostra Bat macchina Ok Che dov'è che l'abbiamo parcheggiata? Qua Come non vederla La nostra macchinina Tra l'altro bellissima Davvero bella Se soltanto grazie a A questa macchina Al Nomad Che noi riusciamo Veramente A Ad andare in giro Perché oltre a queste barriere Appunto Incomincia la radiazione Cioè ci Troviamo le radiazioni Che Se Se non siamo coperti Necessariamente O tramite una corazza apposta O appunto tramite A questa A questa macchina Noi non possiamo Non possiamo andarci Rischiamo di morire Allora qua c'è un problema C'è l'acqua Questa volta sarà diverso E sento di poterci credere Di nuovo Qua mi dice che possiamo uscire Ma se c'è il livello di radiazioni No Proviamo ad andare nell'acqua Vediamo se ci crepiamo Ci crepiamo Perfetto Non lo facciamo Più Allora Andiamo Questo non era per niente Il posto giusto Radiazioni livello 1 Quindi presuppongo Che ci siano anche Radiazioni più potenti E di sicuro Dovremo anche sistemarci Abbiamo dei nemici E io direi Per il momento Di ignorarli Bellamente Ci sono le barriere Quindi vuol dire Che il livello di radiazioni È abbastanza basso Abbiamo acquistato Due punti di viabilità Per Andromeda Perfetto Stazioni minerarie Le stazioni avanzate Possono segnalare La presenza di zone minerarie Su mappe e bussole Grazie all'icona Quella cosa lì Queste zone ti permettono Di raccogliere Allora Dobbiamo fare in fretta Perché sennò Qua moriamo Quindi dobbiamo entrare subito Perché vi ricordo Che ci sono le radiazioni Quindi condizione E la condizione adesso è sicura Perfetto Là ci saranno dei puntini blu Sembrano essere amici Altri robot Questi non sembrano ostili Ci stanno scannerizzando Ok Sono diventati super ostili Teniti un buco nero in faccia Che mi ha rotto le palle Va direi un piccolo aiuto Anche dai miei compagni Ah ok Lì ho anche l'indicatore Ma tu che cacchio vuoi E un colpo lì One shot Abbiamo lì anche l'indicatore Dei nostri compagni Quindi vediamo Se stanno subendo colpi O meno È un buchetto nero Non farebbe male Però si sta ricaricando Quindi lanciamo Un bel Granella Una bella granata Ovviamente guadagniamo anche punti Così che piano piano Possiamo salire di livello E migliorare anche appunto La nostra build Contenitore Vediamo cosa abbiamo Frammenti Ok Quindi io direi di Attivare il terminale Decriptazione impossibile A causa dell'insufficienza Dei glifi da utilizzare Scansione dell'ambiente circostante In cerca di glifi Usa una chiave di decodifica Relictum Per bypassare questo Forse ci servono altre Di quelle immagini Eh mi sa di sì Perché ne abbiamo presa Soltanto una Attiva i 3 monolith Dobbiamo scansionare In cerca di glifi Eeeh Dov'è che possono essere Questi glifi Scusa Allora aspettate Ok Questo terminale Sembra controllare Il flusso Di grandi quantità Di energia E se noi facciamo così Seguiamo un po' tutto Terminale Grazie a SEME Puoi interfacciarti Direttamente con i terminali Relictum Accedere a rispegnere I vari dispositivi O sfruttare il tuo vantaggio Ok Con questo cos'è Che abbiamo fatto In teoria dobbiamo Possiamo salire E se saliamo là sopra Vediamo il suo Il suo simbolo Il suo glifo E il glifo In teoria è qua Perfettamente Eccolo Ed ecco qua un glifo Quella cosa però Cos'è Dispositivo di risonanza Ignoto Va bene Va bene Dai Abbiamo il nostro glifo Perfetto Adesso possiamo Interfacciarci Allora se non mi sbaglio È un po' tipo sudoku Non so se vi ricordate Il sudoku Proviamo un attimo Subito Vediamo Allora Qua abbiamo Questo Questo E questo Quindi ne manca Soltanto uno diverso Che è quello diverso È questo qua Quindi vuol dire Che qua sotto Non ci può essere Quello Qua non ci può essere E che quindi Quello la deve essere Per forza Qua un po' come il sudoku A sua volta Non può essere qua Quindi è qua Perfetto E fin qua in teoria Ci siamo Poi passiamo ai punti di domanda Su questa linea ci siamo Su questa ok Su questa ok Quindi quella che manca In quel punto di domanda È questo Cerchiamo un punto di domanda Ok Ora Passiamo all'ultimo All'ultimo che Allora Quindi qua Manca questo qua Che non c'è Nessun'altra parte E qua No Questo no Questo qua Perfetto In teoria ci siamo Vediamo se è la nostra Combinazione giusta E No È sbagliata È sbagliata Cioè non ce le fa fare Proprio niente Però peccato La teoria sembrava giusta Le scansioni Rilevano dei glifi Mancanti Ah ok Perfetto Quindi devono scansionare Scansionare In cerca di glifi E noi gli altri glifi Però dov'è che li troviamo Cerchiamo Là sopra Dobbiamo salire Là sopra Ok Terminale Quindi azioniamo Questo in modo Che possiamo salirci Vabbè La teoria del sudoku Raga sarebbe stata Bellina Solamente che forse Per alcuni Ci voleva un po' Troppo tempo Perché non avendolo Mai fatto A me il sudoku Personalmente È sempre piaciuto Dai sali però Ok E l'altro È qua È super scivoloso E siamo caduti Come dei deficienti Ce la facciamo da qua Ok ce la facciamo Anche da qua Buono Scansione completata Ok perfetto In teoria Ora ci siamo No Abbiamo cercato Tutti e due I glifi Perfetto Adesso ce dobbiamo fare Vediamo com'è Usa il terminale Decrypta il codice Relictum Assegnando I glifi Alla griglia Righe Colonne O forme Evidenziate Non possono includere Più di un glifo Dello stesso tipo Perfetto Dobbiamo mettere Quelli mancanti E poi come il sudoku Raga Allora era uguale La teoria E qua manca la e Al punto di domanda Non era un simbolo Era proprio tipo Che mancava Abbiamo capito Ok quindi E ora manca l'ultimo E l'ultimo è Questo qua Confermiamo la soluzione Con successo Perfetto Siamo veramente Troppo bravi Questi Ho detto che il sudoku Era un'idea Ingegnosa Vediamo cosa succede Ha funzionato I monoliti Stanno risuonando Contatto CRQ Dove attivare i monoliti Ne manca uno Quindi direi Ritorniamo alla nostra La nostra Bat macchina Aspettate questa cosa Possiamo scansionarla Oh scusate Mi sembrava una roccia Carina Spero di non morirci Ok Ricchezza mineraria Ottima Lancia un drone Minerario Praticamente Noi adesso Cos'è Ok questo è un drone Minerario Ce l'abbiamo qua Lo piazza E ci stanno sparando E vaffan Io non c'ho voglia Di combattere Cioè Ma vedi Rottor cazzo Dall'altra parte Dobbiamo fare Retromarcia E questo drone Minerario In teoria dovrebbe Scavare E dopo che scava Cioè ci dà I minerari Un po' Un po' Un po' Un modo per craftare Lui ci prende le risorse E poi noi In teoria Dobbiamo tornare Cioè se la cosa È fatta bene Dobbiamo tornare E prendere Tutto il resto Sì ci schianteremo No È super indistruttibile Un po' Di turbo Cosa vorresti dire Tenerti per te I tuoi giudizi Allora Mentre in macchina Stanno un po' Discutendo Ma questa cosa Non è che ci interessa Più di tanto Cioè alla fine L'hanno messa Secondo me Per riempire Un po' Di più dialoghi Ah fermiamoci Noi dobbiamo Salire Ok no È il classico Bivio Che non si doveva andare Dobbiamo attivare L'ultimo monolite E io direi Anche eliminare Le radiazioni atmosferiche A sto punto È comunque Una cosa da fare Così non rischiamo E eliminiamo E eliminiamo un po' I cat Qua ci vorrebbe Il fucile di precisione Eh però Condizioni sicura Perfetto Sono un bel po' Quello sembrerebbe Uno scudo Quindi Se Abbiamo pure i cagnolini Buongiorno Ah no Questo non è morto Pensavo fosse morto All'inizio Ah qua ci sono le radiazioni Quindi la nostra vita Scende in basso Allora Mancano Quelli là Non sembrano tanti Comunque Con un Con un buco nero Dovremmo Dovremmo batterlo Sono due Il buco nero Shotta però Non so se avete notato Veramente forte Veramente Veramente forte Elimine cat No Ne manca qualcuno Perché sennò Ce lo metterebbe là Eh dobbiamo farci Tutto il giro Generatore Elettrico Dopo Lo attiviamo Prima eliminiamo Un po' Tutti questi Sì Levatevi un po' Dalle palle Grande Che c'è qualcuno Che ha lanciato Una granata Tieni il buco Nero in faccia Ok Allora abbiamo Finalmente Ammazzato Tutti Tutti i cat Ho messo un dato Rilevante Questo era uno scudo Mi sembra È una barriera cinetica Erano davvero tanti Ma da questa parte Non so se possiamo andare Quindi direi di scavalcare Dato che possiamo Generatore energetico Perfetto E l'abbiamo Disattivato Let's get to it Before there's Anymore cat E E E E E Chi siete? Bella entrata in scena, siamo nel Nexus, complimenti per l'entrata direi, niente male davvero. Che ci fate qui? Cerchiamo di sopravvivere, esploriamo, noi principalmente esploriamo. Oh. ma sono chiesto di morire in un'espasso. Mi sono andato a qualche parte di un po' di planeti, facendo le base di Kett, combattendo i trattori di solito. Mi sapevo cosa che possono fare. Non è bello. D'innodrak, potremmo usare qualcuno con te... ...skeglie. Tammatissimo che è, Vetra, sono un po' più oltre a portare i humani durante una battaglia. Inoltre, il giorno che mi aiutare il nexus è il giorno che i cloudi partano e i Kett vengono. No offensi. Non è vero. Bene, perché mi sono fissi e i Kett vengono più forte. Mi sembra particolarmente interessato in questa tecnica aliena. Remnant? Sì, quello. Scusate. 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 Scusate di guardare lì. Scansione in cerca di Gliffy. Comunque peccato che lui non si sia aggregato alla nostra compagnia, alla nostra ciurma perché secondo me valeva davvero tanto. Sembrava simpatico. Diciamo. Dipende dai punti di vista. Allora, di sicuro noi andremo là e ci dirà che non va bene, quindi dovremmo scansionare i soliti Gliffy. Tentiamo lo stesso. Qua a proposito. Eh, lo scanner è appunto lo stesso scanner che avevamo trovato nel primo Gliffo. Allora, dobbiamo vedere un attimo dov'è che va il tutto. Qua sopra non c'è niente. Ecco qua, uno è là e l'altro è qua. Sono entrambi qua sopra, perfetto. Alla fine basta usare lo scanner e vedere, capire dov'è che vanno i tracciati energetici. Abbiamo detto che è molto scivoloso, quindi attenzione. Eccolo qua. Questo è uno dei Gliffy e l'altro abbiamo detto che è di fianco, quindi... Da qua non lo vediamo, incredibile. È là, quindi l'altro deve essere là. Ce la facciamo anche da qua? Ah no, incredibile. No, perché se ce la facevamo da là era un bel po' di cose. Ah, radiazioni, dobbiamo stare attenti. Poi questa superficie è anche abbastanza scivolosa. Cacchio. Perfetto, abbiamo trovato tutti e due i Gliffy. Ora possiamo risolvere il nostro ultimo Rebus. Ok, qua niente Sudoku. E non era normale così. Ora vediamo cos'è che succede. Ben fatto. Potrebbe essere l'interruttore. Ok, controlla la struttura centrale Relictum. Vediamo quanto è distante. È quasi un chilometro. Ok, ragazzi. Io direi quindi che per questo episodio è tutto. Abbiamo... In questo episodio abbiamo attivato un po' comunque queste torrette. Abbiamo scoperto dei Gliffy, quindi il linguaggio alieno. E niente. Cercheremo di scoprire ancora più cose nel prossimo episodio. Ci sentiamo. Da Prisma è tutto. Bella.